Purtroppo ancora una volta siamo nostro malgrado a registrare l'ennesimo schiaffo alla povertà e da chi ha veramente bisogno di sostegno per alimenti provenienti dagli aiuti della comunità europea buttati senza alcun riguardo o minimo senso di vergogna per strada o nei cassonetti della spazzatura. Ancora una volta questo ritrovamento che fa oscillare le coscienze di chi ha un minimo di sensibilità verso queste problematiche tra indignazione e rabbia è stato fatto per l'ennesima volta cosa che ormai diventa un'abitudine nella zona dell'ex aeroporto come anche altri ritrovamenti fatti in un passato recente e per questa come anche per le altre sfugge il senso di tutto questo. Se non sono graditi o non si ha bisogno basta non ritirarli o rifiutarli a vantaggio di altre famiglie o altre unità. Questa volta sono stati lasciati nell'isola ecologica in fondo a via della colonna a pochi passi dalle abitazioni tra il contenitore della plastica e la campana del vetro ordinati in due scatoloni probabilmente gli stessi con cui sono stati consegnati ed una grossa busta. Lì in bella vista nemmeno il pudore di nasconderli o camuffarli ha attraversato la mente della mano scellerata che li ha lasciati lì alla faccia di chi fa veramente fatica a sfamare i propri figli a fine mese anche nel 2018. Pacchi di pasta, riso, alimenti in scatola e pomodori pelati, farina e zucchero tutti generi di prima necessità e questa volta cosa che stringe ancora di più il cuore pensando a zone dell'Africa in cui la mortalità infantile per malnutrizione è ancora una piaga anche del latte in polvere per neonati. Tutti perfettamente commestibili, tutto buono con la scadenza al 2019 e in alcuni casi anche al 2020. Uno scempio, una vergogna che fa gridare una sola domanda. Perché?